La speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile. Per noi sperare significa ricordare, sognare e non abbandonare mai quei momenti di felicità, fatti di musica, emozioni e libertà. Insieme dobbiamo continuare a sperare che quel desiderio di felicità presto diventi realtà. Viviamo di sogni, di felicità, di ricordi di ciò che è stato e di speranza di ciò che sarà. Se la felicità è la nostra meta, la speranza sarà il nostro mezzo. Se la speranza è verde, Mr. Charlie si coronerà di verde. Perché noi siamo Mr. Charlie. Grazie per aver guardato il video.